Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Il celebre fotografo Oliviero Toscani ha rivelato di soffrire di amiloidosi, una malattia rara che provoca l'accumulo anomalo di proteine nei tessuti vitali del corpo, compromettendo la funzionalità degli organi e risultando spesso fatale. In un'intervista al Corriere della Sera, Toscani ha raccontato il suo percorso di diagnosi e le difficoltà che ha affrontato, incluso un drastico calo di peso di 40 kg in un anno. La scoperta della malattia è avvenuta dopo un episodio in cui si è svegliato con le gambe gonfie e difficoltà a camminare, portandolo in ospedale dove gli è stato diagnosticato un problema cardiaco. Successivamente, i medici hanno identificato l'amiloidosi, patologia per la quale non esiste una cura. Nonostante le difficoltà, Toscani si dichiara sereno riguardo alla possibilità della morte, avendo vissuto una vita piena e appagante. Nonostante il suo spirito combattivo, Toscani ammette che la malattia lo ha cambiato profondamente, facendogli perdere l'entusiasmo per la fotografia e portandolo a riflettere su ciò che non ha fatto nella vita piuttosto che su ciò che ha realizzato. Ha rischiato la morte a ottobre scorso a causa di una polmonite virale aggravata dal Covid-19, ma è riuscito a riprendersi. Tra le persone vicine a lui c'è Luciano Benetton, con cui si sente regolarmente, ma Toscani preferisce che non lo visiti, trovando tutto ciò troppo impegnativo. Mentre affronta questa nuova fase della vita, trova conforto guardando partite di calcio e seguendo il tennista Yannick Sinner, oltre a celebrare il successo della sua mostra al Museum für Gestaltung di Zurigo, che è stata prolungata fino alla fine dell'anno.